Nella persona del comandante ingegner Carlo Metelli. Dobbiamo dare questo segnale alla città di Matera perché ci sembrava importante che la festività di Santa Barbara fosse visteggiata insieme a tutta la cittadinanza materana. Anche per far vedere che i Vigili del Fuoco non fanno soltanto interventi relativi al fuoco, ma hanno altre capacità tecniche molto importanti come ha detto l'ederenza. Oltre agli usuali interventi di soccorso tecnico-urgente per quanto riguarda la provincia di Matera, quest'anno è stato caratterizzato da due eventi importanti. In particolare la pineta al lito 48 nel mese di luglio e sempre nello stesso mese l'incendio nella Bibla Sud che ha interessato del materiale pericoloso che è stato prontamente spento dalla personale dei mezzi. I regionali che nel momento provinciale di Matera sono ancora impegnati. Eccoli che inizia la calata. Non vi spaventate.